Grande successo al Teatro Trianon Viviani di Napoli per lo spettacolo Melagrana, un'opera di drammaturgia collettiva curata dalla regista Gina Ferri e dall'aiuto regista Simona Fredella. L'opera, messa in scena a Napoli nel contesto dell'edizione 2023 del Campania Teatro Festival, è un vero e proprio percorso laboratorio nato dall'incontro con le donne della cooperativa La Tenda e prova a dar voce attraverso il medium teatrale ai racconti, ricordi, desideri e il vissuto di ognuna di loro. Un progetto insomma dal grande valore sociale, di cui ci ha detto di più la regista Gina Ferri. Abbiamo fatto una ricerca su questa Melagrana, parla di rinascita, noi lavoriamo con queste ragazze che vorrebbero rinascere perché purtroppo hanno avuto un destino per scelta e per l'amor di Dio, però che le ha fatte un po' morire. Quindi c'è una che dice noi siamo nate per rinascere, quindi proprio prendendo spunto da questo frutto abbiamo cercato di mettere in scena un po' di racconti scritti da loro, un po' di storia vissuta, qualcosa che ci fa sorridere ma qualcosa che ci fa riflettere. E' una gioia, è sempre una gioia stare con loro, cercare di prenderci tutto quello che di bello loro hanno nascosto fino adesso e invece cerchiamo di farlo uscire sempre fuori.